Benvenuti a questo nuovo episodio di MMA Talks Podcast, nel Super Bowl il più anziano, Tom Brady l'ha fatta per così dire a Patrick Mahomes, insomma a volte emergente del mondo del futuro americano, rinviando il passaggio di consegne all'interno del contesto di quello sport, al contrario invece nel mondo del MMA e nello specifico nell'ultimo evento UFC, sono stati i fighter più giovani a sconfiggere in maniera netta, con modalità diverse formalmente ma sostanzialmente abbastanza simili, i più esperti protagonisti del main event, del common event appunto, del più recente card dell'Ultimate Fighting Championship, ci riferiamo ovviamente a i tonfi pesanti di Alistair Overim per mano di Alexander Volkov, e Frankie Edgar per ginocchio di Corey Sandegen, appunto gli incontri principali dell'ultimo evento, andati in scena dallo UFC Apex lo scorso sabato, ci sono state anche altre affermazioni, altre performance, di cui sicuramente appunto andremo a parlare tra main card e predomenare card, in questa puntata faremo anche una anteprima del prossimo evento, in questo caso card numerata, sempre da UFC Apex, che presenta il main event, forse l'incontro, anzi sicuramente l'incontro più ricco di contenuti, da un punto di vista tecnico e più prestigioso, mettendo in paglio tra l'altro appunto una cintura, quella Welterweight detenuta e difesa in questa occasione da Kamaru Usman, dagli assalti di Gilbert Burns, sfida che se ricorderete insomma era stata fissata già un po' di tempo fa, poi c'era stato insomma il caso di positività al Covid da parte di Burns e del suo coach, che aveva portato a un rinvio di questa sfida, sperando, toccando ferro che da qui a sabato non succeda nulla, insomma avremo modo finalmente di vedere la contesa appunto tra Nigerian Nightmare e Durigno Burns, commetteremo anche, faremo anche una breve presentazione, commento appunto degli altri match di una card numerata, diciamo magari non altrettanto pesante in termini di nome, ma ben costruita in termini di matchup, fighter interessanti che saranno in azione, in conclusione faremo anche insomma due considerazioni, due brevi parole su Golden Cage 3, che ha fatto discutere in parte per le prestazioni, per i match che si sono visti, bisogna dire insomma per il livello delle MMA italiane, tenendo conto anche della lunga inattività di questo sport in generale per la pandemia, molto apprezzabile, ci sono state anche uno strascico polemico però per quanto riguarda proprio l'organizzazione stessa dell'evento, emersa dopo un articolo che è stato pubblicato da Repubblica Roma, e faremo insomma magari due parole, due commenti su quanto, sulla controversa per così dire che è riguardato appunto Golden Cage 3. Prima di entrare nel vivo però le presentazioni da questa parte del microfono in saluto a Stefano e dall'altra c'è Giovanni, benvenuto Giovanni. Grazie Stefano, ciao a tutti. Perfetto, allora entriamo nel vivo, come abbiamo detto insomma la nuova generazione, se vogliamo semplificarla così, ha battuto quella vecchia nei due match principali di UFC Apex o Vegas 18 come lo volete chiamare, andato in scena per l'appunto dall'UFC Apex di Las Vegas. Nel main event Alexander Volkov ha sconfitto Alistair Overhim per TKO dopo due minuti e sei secondi nel secondo round. C'è da dire che Overhim dei due veterani duramente sconfitti è stato quello che anche solo per il fatto di essere durato un round e due minuti si è reso maggiormente onore e di fatto nel primo round non ha disputato poi una prestazione così pessima che sostanzialmente si è attenuto a quello che avevamo anche immaginato in sede di anteprima, quello che poteva essere il suo game plan, cioè sostanzialmente cercare di più possibile, prendere le misure di Volkov cercando in alcune occasioni di accorciare in qualche modo la distanza, scampare gli attacchi dalla distanza impostati invece da Volkov che poteva far valere e di fatto alla lunga ci è riuscito un maggiore allungo, il punto di svolta che ha preso forma già nel primo round ma che di fatto poi le cui conseguenze di fatto si sono fatte sentire per l'avere venite durante la prima ripresa e poi sicuramente ha avuto qualche impatto anche sull'andamento del secondo round, un risultato più decisivo è stato quel sinistro d'incontro che Volkov è riuscito a mettere a segno appunto nelle fasi conclusive, negli ultimi minuti del primo round e che Overheim ha visibilmente patito andando sostanzialmente in knockdown. Poi formalmente l'olandese si è rialzato, ha dato segno di essersi ripreso da un punto di vista fisico, di energie, di tenuta del mento dopo quel colpo, dopo aver subito il knockdown ma alla lunga poi quel colpo è stato un po' uno spartiacco all'interno dell'andamento della contesa. Di fatto poi nel secondo round appena Volkov stabilmente insomma sia a livello di calci insomma con diversi middle kick e soprattutto con diverse combinazioni, con diversi 1-2 insomma riusciva stabilmente ad accorciarla a distanza e ad andare a segno per Overheim alla lunga per quanto abbia cercato di resistere il più possibile insomma parandosi per la maggior parte dei pugni portata a segno dal russo al volto, alla lunga però insomma qualche colpo piano piano insomma si è infilato sempre di più all'interno della guardia del Demolition Man e di fatto insomma alla lunga ha preso forma sinistro dopo destro andate a segno ha preso forma insomma la sconfitta per TK Yo con comunque un ottimo stoppage tra l'altro insomma da parte di Jason Herzog una serata in generale comunque ottima insomma da parte di tutti gli arbitri per quanto riguarda le scelte che sono state fatte e in particolare questa del main event insomma che ha evitato insomma che Overheim subisse altri danni oltre a quelli insomma già particolarmente seri anche visibilmente seri se visto insomma quel taglio, quella perdita di sangue particolarmente evidente dal punto di vista estetico insomma alla quale è stato sottoposto Overheim per colpa per così dire appunto di Alexander Volkov che con questa vittoria insomma si stabilisce come uno dei nomi sicuramente più interessanti da seguire all'interno di questa categoria di peso Giovanni insomma questo è chiaramente dei due match principali e dei due match chiaramente che hanno visto un veterano subire una dura sconfitta quello che è durato di più e quello che magari ci permette di dare una certa analisi tecnica in un certo senso Volkov ha vinto magari non ci aspettavamo una formazione forse così rapida però ha vinto sostanzialmente rispettando quello che poteva essere un game plan ideale che avevamo anticipato e lo ha fatto con straordinaria efficacia e concretezza insomma beh sì è andato esattamente come mi aspettavo, come ci aspettavamo fondamentalmente sebbene Overheim non abbia nulla in termini tecnici da invidiare a Volkov Volkov si è dimostrato più fresco, più duro, più pronto a questa contesa ha lavorato dall'esterno e è riuscito a stabilire benissimo le distanze ed è un po' quello che ci dicevamo fra noi la scorsa volta un fighter estremamente alto, estremamente fisico che a differenza dell'olandese Stefan Strupp che in questi termini invece non è mai riuscito a sfruttare i propri vantaggi Volkov riesce a sfruttare benissimo questo tipo di vantaggio tant'è che ha stabilito il range fin da subito Overheim doveva rischiare per entrare nella sua guardia perché comunque lui lavorava dall'esterno e con gli incroci è molto molto ben allenato da questo punto di vista ha praticamente dettato legge nel corso del primo round perché Overheim è vero che ha tentato degli assalti ma non ha mai creato vera pericolosità all'indirizzo di Volkov Volkov invece ha controllato molto bene ha studiato il modo di muoversi di Overheim che continua a far fede su un footwork che comunque è uno dei suoi punti forti e rimane uno dei suoi punti forti e poi quando ha capito bene o male il movimento i gesti di Overheim all'interno della gabbia ha scelto l'azione con cui affondare prima ha messo a segno quel knockdown di cui parlavi tu giustamente e poi alla fine è riuscito a incrociare quel gancio a seguito del diretto e lo ha messo capò stop perfetto di Jason Herzog poco da ridire nell'ultimo periodo Volkov aveva riscontrato delle difficoltà contro un fighter come Derek Lewis che potevano incassare tanto e contro un fighter come Curtis Blades che comunque ha imposto il proprio modo di combattere mentre con chiunque voglia scambiare con lui dalla distanza e lo voglia fare in maniera aggressiva Iovus riesce sempre poi a capitalizzare il colpo vincente e lo abbiamo visto anche in questa occasione Ecco insomma su lo sconfitto e insomma un discorso che insomma in un certo senso ripeteremo anche per quanto riguarda Frank Edgar è difficile esprimersi in termini di futuro perché insomma una sconfitta dura età ormai abbastanza avanzata prospettive nello sport perché in caso di vittoria sarebbero state forse anche un pochino più interessanti in caso di sconfitta riparte il solito dibattito che può essere insomma magari un altro match così per ritiro oppure direttamente ritiro oppure addirittura ma non credo che sarà il caso insomma un taglio di ritiro da UFC più interessante forse può essere il discorso invece per quanto riguarda il medesimo discorso affrontato invece per Alexander Volkov che insomma non si può magari dire che sia del tutto ristabilito in termini di contendership all'interno della categoria dei pesi massimi perché comunque c'è quella pesante sconfitta magari non così tanto pesante come la si ricorda quella per mano di Curtis Blades ma comunque abbastanza netta e che comunque è esposto a determinati limiti da parte di Volkov però questo tipo di informazione può essere utile per rilanciarsi in qualche modo e una domanda che tu hai posto tra l'altro ai nostri follower su Facebook in questo caso la pongo io a te magari ci riflettiamo un attimo quale può essere il passaggio successivo per Volkov una delle proposte tra i vari siti di settore è l'idea di proporre Volkov come eventuale prossimo avversario del vincitore della sfida imminente comunque nelle prossime settimane prossimi mesi quella tra Sireganet e Jairginho Rosenstruck può essere un'idea efficace cioè mettere assieme insomma l'eventuale vincitore di quella sfida contro Volkov oppure avevi pensato o ti intrigano magari altri tipi di sfide per Del Russo? Allora questa è sicuramente una delle possibilità più interessanti e mi sento di appoggiarle in pieno potrebbe essere un match ideale quella di far scontrare Volkov con il vincitore del match fra Jairginho e Ghanet ne uscirebbe senz'altro un incontro fra Stryker chiunque dovesse vincere fra Jairginho e Ghanet ne uscirebbe un incontro fra Stryker molto molto interessante eventualmente si potrebbe anche considerare un rematch contro Derek Lewis che è contro Curtis Blades Blades è in un limbo allucinante perché non riesce a battere Francis Ngannou però ha praticamente sconfitto tutti gli altri quindi Blades contro il nuovo che avanza e quindi si deve tenere occupato anche lui Volkov te l'ho detto ce lo vedrei contro Derek Lewis in un eventuale rematch lo vedrei benissimo però non saprei cioè non puoi ad esempio accoppiarlo oggi con un Junior Dos Santos non puoi accoppiarlo con uno della parte bassa della classifica della Totten non esiste e quindi i match gli rimangono limitati o un rematch contro uno dei due fighter contro i quali ha perso oppure non ho sinceramente delle idee adeguate se non appunto il match contro il vincitore fra Ghanet e Gersinio in realtà Volkov va un ventaglio secondo me di più possibilità almeno di tre perché avendo inanellato due vittorie consecutive entrambe per TK o un match contro uno dei fighter che l'ha sconfitto sarebbe ideale o altrimenti questo per decretare poi eventualmente comunque un prossimo first contender perché sono anche i fighter che si sono mantenuti più attivi in questa divisione no? Sì sì assolutamente anche per dare un po' di attività perché comunque siamo ancora un po' tu dicevi citavi un limbo in generale non solo lo stesso Blades ma tutta la categoria un po' nel limbo ancora di lo stessato è a lungo per Miocic contro Cormier adesso lo sei ancora probabilmente per il rematch tra Miocic e Ngannou e quindi insomma quella sfida che è fondamentale visto che mette in paglio il titolo di categoria servirà anche un po' per sbloccare la situazione nella categoria di peso che non è che sia diventata improvvisamente ricca di talenti rispetto a tante altre però in alto insomma tra punto tra Volkov un ganè un rosso in struik comunque e lo stesso un ganu comunque sta mostrando una relativa vivacità rispetto ad altri tempi insomma sicuramente sta diventando un pochino più interessante da seguire rispetto magari a qualche anno fa nel contesto dell'Ultimate Fighting Championship ci ha messo molto meno ma molto molto meno appena 28 secondi Corey Sandegen a sconfiggere il suo veterano di riferimento in questo caso nella contesa del common event Abantawait 28 secondi per sfoderare una spettacolare Fly Knee diretta proprio al mento precisa chirurgica che appunto gli ha permesso di ottenere la vittoria la seconda più veloce per questa modalità dopo quella stranota di Org Masvidal contro Ben Askren la UFC 239 la sesta più veloce vittoria nella storia di Bantawait della categoria Bantawait della UFC una vittoria che Giovanni qui purtroppo diciamo tra virgolette non ci permette magari di analizzare chissà quali aspetti tecnici se non insomma rendere evidente come Corey Sandegen al netto insomma di quel tonfo pesante netto comunque nelle sue modalità che subì per mano di Aljamain Sterling all'interno della Bantawait Division e forse in generale in tutta la UFC è uno dei fighter dal talento più naturale ricco variegato e per certi aspetti verrebbe tenendo conto anche del fatto insomma di come Sandegen si è andato a segno con la ginocchiata e se ne sia andato praticamente subito un po' alla modalità di Mark Hunt insomma un talento quasi arrogante ma non nel senso dell'arroganza di personalità che può essere irritante ma arrogante è sicuro di sé è confidente dei propri mezzi insomma veramente uno dei talenti più strabordanti per questo sport che si siano visti in tempi recenti sicuramente nella Bantawait Division e in generale insomma forse anche nel contesto delle mix martial arts e della UFC insomma veramente ci ha ricordato esattamente per quale motivo in tempi recenti noi appassionati ci siamo presi aspetti innamorati insomma di Corey Sandegen io non ho mai visto un volto più triste dopo una vittoria sinceramente sembrava quasi voler piangere Sandegen forse perché ha sconfitto l'idolo di gioventù guardava combattere Frankie Edgar ritrovarci sui davanti vincere con questa facilità con questo impressionante atletismo ma soprattutto col dono del timing che è davvero secondo me una delle basi fondamentali per entrare a far parte di questo mondo la sconfitta contro il Joe secondo me lo ridimensiona non tantissimo perché Sterling è anche il prossimo sfidante al titolo di Piotr Ianna quindi parliamo comunque di un'elite molto alta del livello più alto nella divisione che può esserci in UFC non scordiamoci che anche Sterling prima di presentarsi adesso per il titolo ha subito delle sconfitte molto molto importanti contro ad esempio Marlon Moraes Moraes che è stato sconfitto poi da Sandagen ci sono dei giri poi che a volte sembrano appaiono davvero inspiegabili però è soltanto diciamo il gioco degli incastri e da questo punto di vista io vedo Corey Sandagen molto molto pronto per un eventuale anche top 3 di categoria arrivato a questo punto con un match lo vedrei eventualmente il prossimo sfidante al titolo fermo restando che dovesse affrontare Sterling dovrebbe adesso sa su cosa dovrebbe specificamente prepararsi guarda io sono assolutamente d'accordo con te quando dici che è un talento davvero cristallino ha una naturalezza che fa davvero impressione e se consideriamo che in UFC quella contro Aljo era l'unica sconfitta che comunque ha avuto una scalata molto molto verticale è anche impressionante per certi versi guarda io non ci vedrei niente di male a dargli come prossimo match una title l'eliminator si guarda in realtà leggendo per la maggior parte insomma la maggior parte dei commenti insomma del settore rispetto del settore il consenso forse anche dettato spinto per certi aspetti dall'aspetto calaritale di finalizzazione è stata quella addirittura di vedere Sandegen come sostanziale prossimo sfidante al titolo dal vincitore della sfida titolata appunto tra Piotr Jan e Aljamain Sterling ed è uno scenario che comunque tutto sommato ci potrebbe stare propriamente più se magari insomma Jan dovesse vincere a posto di Sterling ma forse questo è uno scenario forse troppo ottimistico rispetto a quello che hai prospettato tu comunque in ogni caso che sia un title eliminator o che sia addirittura il prossimo match titolato del vincitore appunto tra Jan e Sterling sicuramente Sandegen con questa vittoria con questa affermazione si è riportato esattamente insomma sicuramente tra i primissimi posti dei ranking in generale ma sicuramente la considerazione degli scenari titolati a Bantawait dall'altro lato non si può ignorare la ennesima brutta sconfitta subita da Frankie Edgar terza sconfitta per KO negli ultimi sei incontri questo è chiaramente il segno volendo anche considerare questo tipo di sconfitta anche relativamente abbastanza estemporanea per le sue modalità però nel contesto della sua carriera venendo dalla sconfitta per KO di Varian Ortega quella per mano del Korean Zombie in una carriera insomma quando prima in carriera le uniche sconfitte erano state per decisione qui addirittura nel giro di insomma sei incontri nel giro sostanzialmente di quattro anni tre sconfitte insomma per KO è segno probabilmente che una certa resistenza di KO ormai non c'è più che è anche fisiologica insomma tenendo conto con Fighters di 39 anni e qui le prospettive si vanno come dicevamo prima per Roverim abbastanza è un periodo di stop se non è un periodo di stop è forse un abbassamento di competitività quel che è chiaro però è che da questa sconfitta Edgar appare molto difficile che possa rientrare poi come fighter che può ambire a determinati risultati insomma o comunque a determinato tipo di competizione nella direi nella Bantaway Division ma forse in generale nel mondo della UFC e delle Mixed Martial Arts beh sì quando ti ho detto la scorsa settimana che vedevo Sandagen favorito in maniera schiacciante io intendevo nella maggior parte del suo essere per l'atletismo che adesso viene a mancare ad Edgar oltre che chiaramente per la sua capacità di incassare che è stata una caratteristica fondante della della sua personalità del suo carattere del suo arsenale se vogliamo perché comunque la capacità di incassare è una componente fondamentale di un fighter Edgar ci ha fondato su una carriera si è andato a prendere il titolo dei pesi leggeri quando ancora noi iniziavamo a guardare i primi match di MMA ha cambiato categoria più volte è arrivato appunto adesso a questa qui a quella dei pesi gallo che sembra comunque togliergli parecchie energie sia in termini di recupero dal taglio che anche in atletismo in rapidità non può farcela star dietro ai ragazzi più giovani e fenomenali di questa divisione è evidente complice l'età complice anche la sua carriera la carriera che ha avuto alle spalle è un fighter che comunque è effettuato adesso ha praticamente 34 match la maggior parte di essi sono stati comunque sanguinari sono match battaglie vere e proprie prima di adesso come hai detto giustamente tu prima degli ultimi sei match non aveva mai mai conosciuto la sconfitta per finalizzazione il primo è stato Brian Ortega ed è stato un certo shock ricordi quando successe anche per le modalità con cui era avvenuta pareva potersi riprendere con la vittoria su Swanson diciamo che la sconfitta contro Max Holloway prima e contro il Korean Zombie poi hanno precluso ogni sua singola voglia determinazione di tornare in vetta alla classifica dei pesi più ma sapeva che i suoi avversari erano più forti di lui comunque erano più attrezzati di lui e ha sperato di poter avere un lascito importante nella divisione delle 135 libbre qui dopo aver vinto in maniera comunque molto combattuta contro un non eccellente Pedro Mugnoz che secondo me anche in quell'occasione non è riuscito a mostrare il meglio di sé è stato costretto ad arrendersi contro Cori Sandaghen quindi lui secondo me in questo momento sta già pensando a quale può essere il prossimo passo se ci dovesse essere un ultimo match eventualmente per chiudere in bellezza con una vittoria o comunque non credo che le sue ambizioni siano più quelle di arrivare al titolo ma piuttosto quelle di essere un eccellente che facciamo così sì sì insomma sperando che soprattutto non gli capitino insomma altre incontri altre sconfitte o comunque altre contese in cui debba subire troppi colpi insomma magari anche una questione di match up qualche match up anche favorevole da questo punto di vista perché comunque insomma in generale insomma prendere dei colpi alla testa in assoluto al netto di KO non KO non fa bene però dopo non è la cosa migliore del mondo esatto però poi con dei veri propri KO alla fine anche questo tipo di considerazioni anche da parte di matchmaker forse deve essere preso in considerazione stante appunto probabilmente la chiusura del cerchio da parte insomma della carriera nel contesto della carriera di Frankie Edgar dopo la sconfitta di sabato scorso la sfida precedente metteva a confronto non un veterano e un giovane emergente ma sostanzialmente due veterani uno che storicamente insomma è stato contraddistinto da una certa inconcludenza una certa poca concretezza e da avere i propri blackout nella gestione dei propri incontri un altro invece che di Riffo di Raffa insomma con uno stile magari limitato ma ben caratterizzato ben preciso ben definito esatto è riuscito insomma ad estendere la propria esperienza molto lunga all'interno di questo sport parliamo appunto di Clay Guida il vincitore e Michael Johnson invece lo sconfitto Guida vittorioso a lightweight per decisioni unanime 30-27 30-27 30-27 bene o male insomma la differenza fondamentale l'ha fatta in Italia di questa contesa la strategia chiara netta chiaramente con alcuni limiti se si vuole inserire Guida in determinati discorsi di competitività all'interno di lightweight ma che per un certo livello ormai medio-basso quale è rappresentato ormai da Michael Johnson può essere efficace cioè sostanzialmente rimanere sempre molto aggressivo anche nelle fasi in piedi e fondamentalmente appena possibile cercare di accorciare a parete per trovare i takedown un qualcosa che Clay Guida col passare dei minuti col passare dell'incontro è riuscito stabilmente a portare a termine e tra l'altro insomma anche nel finale è andato anche veramente molto vicino a una finalizzazione anticipata insomma quel tentativo di Ryan Nelkechuk nella quale insomma Johnson ha cercato più o meno insomma di difendersi lo ha fatto anche con un relativo successo però è rimasto insomma con l'avversario stabilmente dietro di lui e quindi non c'era assolutamente alcuna speranza insomma per cercare di rovesciare nettamente l'andamento di un match chiaramente nelle mani di Clay Guida Clay Guida insomma che si conferma come uno che tra i tanti veterani insomma di determinati periodi ormai molto lontani del tempo delle Mixed Martial Arts comunque si fa ancora valere è un Michael Johnson invece che infida la quarta sconfitta di Fina nella sua carriera la sua striscia negativa più lunga appunto nel contesto delle Mixed Martial Arts non vince dall'ottobre del 2018 nella lightweight division è 0-3 dal suo passaggio appunto di questa divisione nell'ottobre del 2019 e non ottiene una vittoria in questa categoria di peso dal settembre del 2016 e in generale negli ultimi 12 incontri partendo dall'agosto del 2015 regista un record di 3 vittorie e 9 sconfitte e qui insomma Giovanni è probabilmente se non è l'ultimo ma ci sarà il penultimo al massimo capitolo probabilmente della carriera di Michael Johnson nell'ottagono una carriera che ne abbiamo parlato anche tante altre volte in altri appuntamenti recenti insomma tra podcast dirette che hanno riguardato Michael Johnson è veramente un fighter che ha fondamentalmente deluso delle aspettative insomma se uno può vedere una delle battute che è girata più spesso negli ultimi giorni su Michael Johnson è il fatto che sia un fighter che vanti delle vittorie con fighter del calibre di Tony Ferguson Barbosa addirittura Dustin Poirier si vanno a vedere quali sono state le carriere di questi fighter e quali invece sono state quelle di Michael Johnson veramente è un contrasto che stride indecifrabile l'ho detto l'altra volta per me è un fighter che non sono mai riuscito a capire del tutto è un combattente che sicuramente ha dei limiti mostruosi il solo fatto di presentarsi come wrestler e comunque subire per la maggior parte del tempo proprio in fase di grappling già la dice lunga su quello che è potuto essere Michael Johnson e poi nel momento in cui si veniva allo scambio in molti si sono presentati sicuri di poter avere la meglio su di lui cosa che poi invece non è accaduta perché le sue mani pesantissime hanno fatto il resto sicuramente non il più tecnico degli striker non direi propriamente uno sbraccione perché sarebbe ingiusto e scorretto perché non è stato uno sbraccione è stato un fighter che ha puntato molto sugli scambi spericolate sugli scambi selvaggi e nella maggior parte dei casi ha avuto anche ragione però sicuramente un fighter che non ha ottimizzato quelle che erano le sue caratteristiche le sue possibilità e che non ha mai avuto un particolare occhio per i game plan per le strategie pianificate perché se appunto tu come hai detto tu considerando le sue vittorie e guardando anche le sue sconfitte non si può dire sicuramente che sarà indimenticabile per certi versi sarà indimenticabile perché è stato l'unico per un certo lungo periodo a poter vantare appunto quella vittoria su Tony Ferguson ma anche il capo su Dustin Poirier che fino a quel momento poteva vantare se non ero solo Conor McGregor è stata la sua una carriera di alti e bassi sicuramente di altissimi e bassissimi mi verrebbe da dire perché un fighter che tiene botta in quel modo che combatte contro quei tipi di fighter che vince e porta a casa quei match e poi si vede perdere contro uno Stephen Ray che con tutto il rispetto è un fighter in ascesa ma sicuramente non irresistibile contro Thiago Moises vediamo sì appunto questa contrapposizione netta fra le vittorie di un livello altissimo e le sconfitte di un livello medio basso quindi non indipenticabile Michael Johnson sicuramente la sua carriera è caratterizzata da picchi di emozioni inaspettata contro certi fighter ma nel complesso un fighter lo considererei di medio livello ecco eh sì insomma questa è stata un po' la conferma insomma sul discapito di un'immagine di un racconto che abbiamo fatto di lui non solo noi insomma nel nostro contesto di questo podcast ma in generale insomma nel mondo del mix martial arts e probabilmente insomma si prospetta se non un taglio o comunque qualcosa di simile o comunque un'uscita probabilmente dal contesto della UFC e se non addirittura ha anche una scelta drastica come può anche essere un ritiro da questo sport insomma nel caso insomma le motivazioni magari per continuare come possano venire a mancare sarebbe anche per certi aspetti anche fisiologico insomma dopo questa sconfitta in generale insomma un certo vicolo cieco che ha imboccato ormai la sua carriera in questo sport si parlava insomma di fighter emergenti invece qui ce ne sono stati due a confronto per certi aspetti uno magari un pochino più affermato nel contesto di UFC un altro invece che ha fatto il suo debutto proprio in questa carta in occasione di questa carta dopo aver ottenuto la maggior parte dei suoi successi di redievo nel contesto di Rising ad averla meglio è stato invece è stato il fighter che l'ottagono lo ha frequentato e anche con un discreto successo con ottime prestazioni già da un po' di tempo parliamo di Alexander Partogia che a flyweight ha sconfitto il newcomer Manuel Capet per decisione unanime 29-28 29-28 30-27 una vittoria che per certi aspetti è stata più diciamo di fattura da parte dello sconfitto che non necessariamente da parte del vincitore nel senso che Pantoja da parte sua ha condotto un match assolutamente rispettabile e ben disputato insomma per quello che poteva essere la sua strategia insomma è stato sostanzialmente quasi tutto l'incontro per tutti i 15 minuti volendo insomma nel terzo run magari ha mollato un pochino da un punto di vista dell'intensità ma ci può anche stare insomma dopo tutto quello che avevo offerto nei round nelle riprese precedenti è sempre molto aggressivo sempre con i colpi visibilmente insomma sicuramente è andato per segno del suo diretto avversario ma comunque anche i colpi che sono andati a segno visibilmente più potenti insomma con un maggiore peso dietro ogni singolo colpo di fronte invece a un cape che è veramente stato molto molto abullico se nel primo round poteva anche starci insomma l'idea di un fighter insomma in arretramento sempre molto attento al proprio football difensivo per cercare insomma di leggere le intenzioni dell'avversario diciamo cogliere delle informazioni sul campo per poi eventualmente passare un pochino più aggressivo dal secondo round in poi dal secondo round invece capo è uscito sempre molto timido sempre poco coinvolto nella realtà nel ritmo del match e solo nel terzo round ha cercato un pochino di essere un pochino più intapendente di prendere un pochino più il centro dell'ottagono di essere già appunto dal punto di vista del football un pochino più pressante però un pochino ci è riuscito ma i risultati in termini di colpi effettivi di effetti striking hanno lasciato molto a desiderare onestamente quindi probabilmente questo è stato il caso insomma sicuramente di un Pantoja che si è presentato bene direi troppo bene ne direi a malapena insomma proprio bene in assoluto da piena sufficienza alla sfida e da l'altra invece un cape che invece ha probabilmente patito quella che in inglese insomma si definiscono octagon jitters insomma una certa tensione dal debutto nell'ottagono adesso da lì a magari a parlare di ridimensionamento di cape di quelle che potevano essere le sue prospettive al suo ingresso in UFC può anche essere forse da un certo punto di vista un po' eccessivo però chiaramente questa può essere quel tipo di sconfitta che può aiutarlo insomma a magari focalizzare poi erano migliori i propri sforzi forse anche da un punto di vista più psicologico insomma di aspetto mentale di questo sport che non necessariamente dal punto di vista tecnico e sarà appunto da un lato vedere insomma sarà interessante vedere quale può essere la prossima sfida per Pantogia che comunque ha fatto bene dall'altro invece sarà interessante vedere quale può essere la reazione magari con un livello di competizione inferiore rispetto a quello offerto da Pantogia da parte di Cape nella sua prossima uscita all'interno della Ultimate Fighting nel contesto dell'Ultimate Fighting Championship vittoria buona bella possiamo definirla così quella di Benelda Rius nel match precedente a Lightweight contro Carlos Diego Ferreira un coriaceo comunque competitivo Carlos Diego Ferreira per split decision 29-28 29 28-29 29-28 29-28 ci può stare il 29-28 come cartellino non ci sta onestamente lo split sembrata una decisione formalmente unanime insomma sicuramente sostanzialmente unanime in favore di Darius che se nelle fasi di scambi in piedi bene o male si è tenuto per buona parte dell'incontro un sostanziale equilibrio in termini di insomma colpi andate a segno di iniziativa scambi selvaggi esatto sì con Ferreira insomma sostanzialmente ci sono stati a parte magari alcuni frangenti in cui uno o l'altro in particolare Darius può aver avuto come dire il sopravvento però in generale insomma quelle fasi in piedi sono state distinte da tanta attività tanta vivacità e soprattutto da un fondamentale sostanziale equilibrio ciò che ha sicuramente spostato la bilancia del giudizio in favore in atto favore di Darius sono state appunto le fasi di wrestling insomma di cambio di livello ottenuti con una certa regolarità da parte di Darius accompagnate anche da una discreta attività per quanto possibile per quanto reso possibile dalla difesa piuttosto vivace schiena a terra da parte di Brasileano Ferrera insomma bene o male Darius con una certa difficoltà ma comunque ci ha riuscito a dare a segno con qualche colpo in grande pound singolo qualche gomitato insomma bene o male comunque ha cercato anche di rendere attive quelle fasi in piedi cercando di concretizzare insomma i cambi di livello che ha riuscito a portare a segno ti chiedo Giovanni forse onestamente rispetto ad altri commentatori che hanno commentato addirittura parlando insomma di un contender addirittura nella lightweight division devo dire che Darius ha fatto sicuramente molto bene non so se possa questo match possa bastare per definirlo addirittura un contender emergente voglio chiederti insomma le tue impressioni se sicuramente ti ha fatto una bella impressione ti è sembrato un fighter che può veramente riportarsi a un livello per dare una una dimensione insomma su una top 5 addirittura sicuramente una top 10 ma una top 5 secondo me onestamente no però comunque sicuramente una bella prestazione a parte del fighter di Kings MMA beh guarda se c'è una cosa che ha dimostrato Darius in questo match è la sua durezza psicofisica negli scambi ha sofferto a volte gli sono tremate le gambe è successa la stessa cosa a Ferreira secondo me sono due fighter di un livello molto simile ed è quello che comunque abbiamo visto che possono si competere assolutamente all'interno della top 10 senza ombra di dubbio la top 5 è un terreno un po' diverso perché comunque il livello si va ad alzare in qualche maniera considerando la top 5 in questo momento andiamo a vedere che intanto considerato sempre l'enorme dubbio Khabib Nurmagomedov difenderà la cintura non la difenderà questo non possiamo saperlo finché non viene annunciato il prossimo match titolato però al di sotto vediamo fighter del calibro di Dustin Poirier Justin Gage Charles Oliveira Michael Chandler e Tony Ferguson ora io al di là del moderno del contemporaneo Tony Ferguson non vedo uno di questi quattro fighter contro cui Dariush può brillare ecco magari può vincere un grinding match diciamo così contro uno di questi è possibile questa cosa però in questo momento vedo i protagonisti della top 3 anche Khabib escluso leggermente superiori a Dariush poi la gabbia è quella che rivela e che sentenzia alla fine ciò che è giusto e ciò che sappiamo è che Dariush comunque ha inanellato una serie di vittorie davvero impressionanti guardi in questo momento se dovessi scegliere mi piacerebbe vederlo eventualmente contro un Rafael Dosagno per sciogliere un po' di dubbi appunto in merito all'eventuale entrata in top 5 eh sì sì assolutamente un match anche in termini di prestigio che sicuramente insomma un Dariush insomma che si è espresso anche nel post match insomma sulla difficoltà nel trovare match che lo possano aiutare insomma a scalare le classifiche perché insomma visto come un fighter ad alto rischio e basso rendimento per così dire nel caso lo si sconfigga in termini di nomi avere la possibilità di affrontare un fighter con un certo cachet appunto come Rafael Dosagno rappresenta sicuramente una possibilità insomma di coronare quello che poteva essere un suo desiderio espresso anche in maniera esplicita nel post match appunto da parte del compagno di team tra l'altro di Marvin Vettori ad aprire la main card è stata la sfida fra certi aspetti ancor più a senso unico nell'ambito appunto del wrestling per lo meno per come si è sviluppata la contesa la vittoria nel contesto di light heavyweight da parte di Danilo Marquez ai danni di Mike Rodriguez in realtà vittoria per technical submission per Ryan Naked Chalk 4 minuti e 52 secondi nel secondo round insomma concretezza nel secondo round nelle fasi conclusive del secondo round nel ottenere la vittoria insomma guadagnando la schiena del rivale ma in generale insomma un match contraddistinto sostanzialmente dalla facilità e dall'altro lato insomma dalla scarsa difesa dei takedown appunto di Rodriguez Marquez ha avuto assolutamente modo di esporla in maniera assolutamente netta a proprio vantaggio e insomma verso la conclusione del secondo round della seconda ripresa ha concretizzato appunto con la vittoria per il rear Naked Chalk dando anche un po' insomma una veloce scorsata anche alle altri match della preliminary card tante decision alcune più o meno convincenti in termini di spettacolarità e di qualità delle performance giusto per recitare i risultati Valiev che sconfigge Timur Valiev che sconfigge a Martin Day a featherweight 30-25 30-25 30-26 sempre nella stessa categoria di peso Seung Wong Choi che sconfigge Youssef Salal 29-28 29-28 30-27 a flyweight Lara Procopio va a valere insomma bene o male della sua superiorità nell'ambito del wrestling della lotta a terra contro Molly McCann vincendo per 29-27 ci sono un'anime 29-27 29-28 30-27 e a bantamweight femminile caro rosa supera l'avversario in short notice Joseline Edwards con i cartellini di 30-27 30-27 30-27 nella première card vittoria invece prima del tempo in apertura d'evento per Odi Osborne insomma direttamente un sinistro che dopo 26 secondi ha spento subito le luci a Jerome Rivera per KO nella categoria featherweight e a catchweight a 160 libre tra DeMonte Smith e Justin James vittoria appunto per DeMonte Smith per TKO per stop del dottore dopo 3 minuti 38 secondi nel secondo round altra ottima scelta dell'abito in questo caso Keith Peterson insomma nel vedere quel colpo che ha causato insomma una visibile intumefazione all'occhio da parte di Justin James e la decisione saggia di interrompere l'incontro e chiedere insomma l'intervento dell'abito per poi portare all'interruzione dell'incontro che assolutamente si poteva stare per evitare insomma che James andasse avanti con la vista visibilmente dimezzata insomma dopo quel colpo andato a segno da parte di DeVonte Smith Giovanni insomma DeVonte Smith che questa vittoria comunque in un certo senso si rilancia e dopo insomma la sconfitta rimane incassato contro Kamaworthy adesso non è che diventi un contender così però nel contesto di lightweight con quella precisione con quella efficacia dei colpi qualche soddisfazione con una certa ascesa magari se la può costruire nel contesto della pur molto competitiva lightweight division si ha dimostrato di essere quello che è secondo me un buon prospect che può ambire appunto a scalare le gerarchie per definire un po' meglio il suo livello la caduta contro Kamaworthy che fra virgolette doveva essere un match non dico di comodo però un match che lui doveva vincere gli ha provocato una brusca frenata diciamo in questa scalata ha ripreso nella maniera migliore contro Justin James un match ritagliato magari su misura per lui proprio per caratteristiche tecnico-fisiche dei due contendenti e ha ripreso da dove aveva lasciato fondamentalmente dai KO che aveva messo a segno continua giustamente ad impressionare continua a stregare il pubblico però adesso bisogna vedere di che pasta è fatto e comunque tentare di avere un match contro un nome leggermente più affermato non ancora da top 15 sicuramente ma più affermato assolutamente e giusta in chiusura di analisi di questa card Fight of the Night giusto assegnato a Benidariush contro Carlos Diego Ferreira come match premiato appunto dal bonus di Fight of the Night per Fight of the Night Savasandir a Alexander Volkov e Corey Sandegen direi a questo punto che possiamo passare all'anteprima della prossima card come detto UFC 258 card numerata con un discreto livello generale insomma in termini di tipo di matchup di fighter che si esibiranno ma sicuramente la contesa più interessante sotto diversi punti di vista è rappresentata dal Medevent titolo Welterweight della UFC in paglio con il campione in carica Kamaru Usman che finalmente insomma toccando ferro riuscirà ad affrontare il direi l'indiscusso number one content di questo periodo in questa fase storica della Welterweight Division in Gilbert Burns insomma abbiamo visto avuto modo Kamaru Usman dominio un regno assolutamente dominante tra contese fortemente condizionate insomma dalla sua superiorità netta nelle fasi di transizione a parete nel wrestling nel controllo degli avversari a terra sfociando magari anche in una certa noiosità insomma delle sue se non necessariamente delle sue performance ma degli incontri nelle quali insomma in alcuni incontri in cui si è esibito accompagnata però anche da contese quella storica ormai per certi aspetti quella che toccò i Covington in cui ha dimostrato di avere una dimensione di striking assolutamente eccezionale ridefinita da uno dei migliori coach in generale per l'MMA e nello specifico nell'abito dello striking in Trevor Whitman dall'altro lato invece un Gilbert Burns che in particolare insomma nella performance contro Tyron Woodley ha dimostrato oltre a avere un background solidissimo per quanto riguarda il BJJ e la lotta a terra ha dimostrato anche di saper di aver fatto grandissimi progressi nell'ambito dello striking sia per la qualità per la precisione dei colpi sia per il footwork offensivo nel cercare insomma di sfruttare nel caso di Woodley insomma la sua tendenza ad arretare molto verso la gabbia possiamo dire Giovanni insomma che sicuramente in questa fase storica sicuramente in questo periodo non può esserci fighter con i maggiori titoli in termini di stile di lotta di stato di forma di cresce di vittorie può rivendicare appunto una chance contro Kamaru Usman ma la domanda fondamentale è Gibbon Burns ha davvero i mezzi per poter sognare quello che formalmente può essere definito un upset o comunque sognare di togliere la cintura all'attore campione di categoria Kamaru Usman beh io concordo molto con la presentazione che hai fatto nel senso che è sicuramente il fighter con le credenziali giuste per affrontare Usman senza bisogno di considerare il fatto che lo conosce meglio di tutti gli altri essendo stato un suo compagno d'allenamento guarda fra lui e Colby Covington non so in questo momento chi abbia le credenziali più giuste però entrambi si presentano come ideali contendere al titolo il problema per Colby Covington è che lui è già stato battuto dal campione e quindi la palla passa giustamente a Gilbert Burns che è reduce anche da una striscia di vittorie molto molto importante abbiamo visto da quando ha cambiato categoria fondamentalmente ha dimostrato di essere entrato nella sua vera divisione ed ha dimostrato anche di avere i mezzi per dominare all'interno della stessa categoria proprio battendo degli avversari del Cali basta guardare le ultime tre vittorie Gunnar Nelson Damian Maia Tyron Woodley sopra di loro voglio dire ci sono davvero pochissimi fighter in questo momento ci possono essere in questa divisione Orge Masvidal Gilbert Burns appunto e Colby Covington nessun altro non vedo nessun altro sopra di loro da questo punto di vista la scelta è giustissima sia in termini di stile che in termini di personalità i due si rispettano molto erano compagni di allenamento e non hanno non hanno avuto e non hanno bisogno di secondo me di pompare di mettere hype al match con del trash talking o qualsiasi cosa di contorno perché al di là di ciò che possono dire non solo i casual anche magari qualcuno più esperto che non è molto attratto dallo stile di combattimento di Usman Usman è senza alcuna ombra di dubbio il peso welter più meritevole di indossare quella cintura e l'ho dimostrato attraverso le prestazioni Gilbert Burns in questo momento è il fighter invece che più si è meritato la chance di combatterci contro quindi nella mia opinione è il match più giusto che si possa fare per la corona dei pesi welter e Burns per rispondere alla tua domanda ha sì i mezzi per sconfiggere Kamaru Usman il problema è che contro Kamaru Usman non devi sbagliare nulla per vincere e in questo momento sembra virtualmente imbattibile eh sì assolutamente questo è quel tipo di match non è l'unico ovviamente però è sicuramente quel tipo di match in cui davvero solo la visione diretta insomma finalmente insomma se tutto andrà bene insomma la possibilità di poterlo vedere ci toglierà questo dubbio perché appunto Kamaru Usman è sembrato veramente tra tutti i campioni attuali della UFC uno di quelli che ha dato la maggiore l'impressione più forte di imbattibilità insomma veramente di Starfighter per certi aspetti molto molto completo comunque avendo a che fare anche con un livello di competizione comunque non basso insomma non è assolutamente quello una critica che si può muovere alla welterweight division è solo che insomma Usman in questo momento è stando ai fatti il fighter più completo in assoluto per talento nelle diverse fasi e continuità di prestazione tra le varie fasi appunto del combattimento di Mix Mascial Arts vediamo appunto se brasiliano Burst sarà in grado di riservargli una brutta sorpresa nel resto della card insomma rimanendo un attimo nel contesto della main card il common event sarà una sfida tra giovani emergenti nella women's flyweight division tra Macy Barber e Alexa Grasso due incontri a middleweight Kevin Gastelum che affronta Ian Heinish e Mikey Pitolo che affronta invece Julian Marquez a bantawait molto molto interessante sarà vedere in azione Pedro Munoz contro Jimmy Rivera diciamo che forse insieme a Gastelum Heinish Munoz contro Rivera può essere il nome può essere l'incontro che fa spuntare sia la voce match relativamente equilibrato sia la voce tecnicamente interessante e anche con nomi di un certo richiamo sarà forse uno dei match più interessanti di una main card discretamente costruita in generale si si molto ben costruita anzi stavo guardando mi viene da citare il match fra Anthony Hernandez e Rodolfo Viera secondo me questo è al di sotto della main card chiaramente ma anche nei prelims ci sono delle gemme nascoste ecco questo mi sembra un po' un match chiaramente organizzato per presentare al meglio Viera la card la scorsa volta probabilmente ne avevamo già parlato alla lontana avevamo detto che al di là del main event non c'era poi molto ma invece anche sia nella main card come hai detto giustamente tu ma anche nei preliminari vedo dei match molto interessanti Belal Mohamed contro Diego Lima per dirne un altro Ricky Simon contro Brian Keller la card in realtà è ricca di qualità poi chiaramente se andiamo a cercare i nomi come come hai sottolineato giustamente tu ci possiamo soffermare sulla main card che è già ricca e comunque si presenta benissimo la card numerata sì sì è chiaro che è stata anche una card per certi aspetti per quanto riguarda il contesto di nomi è anche un po' sfortunata perché avrebbe voluto esserci insomma come l'evento originale era quello tra Chris Weidman e Uriah Hall poi insomma Weidman ha contratto il coronavirus e quindi quel match appunto è stato rinviato e quindi questa card ha perso un po' un certo peso che era previsto in origine poi chiaramente insomma dalla prospettiva americana card numerata significa insomma settantina di dollari da spendere quindi le considerazioni possono essere di tipo diverse rispetto alle nostre però in ogni caso comunque da un punto di vista insomma di match interessanti e di nomi anche coinvolti è difficile comunque trovare un match che non possa suscitare almeno in una fanbase al core di questo sport un certo interesse insomma hai citato altri match della prelimina che ci sono anche Bobby Green contro Jim Miller a lightweight e Pollyanna Viana contro Mallory Martin a strawweight femminile Ricky Simone contro Brian Keller nei predims di fight pass Gillian Robertson contro Miranda Maverick che anch'esso come match di apertura non è assolutamente male nel contesto di flyweight forse giusto la sfida tra Gabriel Green e Philip Rowe a welterweight può essere quella un pochino sottotraccia rispetto alle altre però in generale insomma sembra esserci abbastanza qualità distribuita insomma in tutti i match e mi chiedo come mai è stato scelto come come in event Barber Grasso quando magari si sarebbe potuto promuovere Gastelum Minish credo che la prospettiva sia che la UFC sia molto punti molto su Macy Barber e in minima parte un po' meno forse su Alexander Grasso ma anche su di lei e quindi ci possa essere insomma di interesse appuntare un pochino di più in caso di vittoria soprattutto da parte di Barber ma comunque anche se dovesse capitare in caso di Grasso rispetto a un Gastelum che è un fighter sicuramente insomma di una certa elite nel contesto di midweight ma che ha perso forse un po' di smalto dopo la sconfitta onorevolissima contro Adesania e un Hymnish che è fighter tosto fighter coriaceo ma che probabilmente non arriverà mai a certi livelli insomma che comunque non potrà mai forse avere un certo tipo di appetibilità quale poteva avere un Gastelum magari insomma dopo la contesa contro Adesania e quale in prospettiva potrebbero avere una Targrasso e barbara il ragionamento credo che sia quello due parole in conclusione ve l'avevamo promesse e non possiamo mancare da questo punto di vista su The Golden Cage 3 che è andato in scena insomma in diretta su Fight Pass UFC Fight Pass questo scorso sabato un evento che da un punto di vista di divertimento insomma comunque di qualità di performance chiaramente parametrata a quello che può essere un livello di competizione delle MMA italiane e modendo anche per certi aspetti anche a livello europeo assolutamente godibile show caratterizzato insomma da in anteprima e anche durante lo svolgimento da diciamo qualche limite organizzativo insomma in alcuni annunci in alcuni dettagli insomma sembrava che tutto l'evento dovesse essere trasmesso poi in realtà sono stati trasmessi solo i primi scusate gli ultimi 6 match anche a livello di produzione insomma qualche limite diciamo produzione tecnica insomma dell'evento qualche limite un pochino si è visto insomma però per quello che conta insomma le prestazioni dei fighter pensazioni assolutamente positive bel main event del rematch insomma tra Damiani e Sakkarro con la vittoria del primo per Renek Chok dopo 4 minuti 75 secondi nel secondo round prestazione assolutamente dominante non l'unica ma sicuramente forse una di quelle che ha fatto voltare diverse teste quella di Vise Mamami nel come event contro Frank Agaglio vittoria per Pretty dopo 3 minuti nel primo round vittoria del titolo featherweight da parte di Michele Baiano dopo 3 minuti 10 secondi nel secondo round una sconfitta che ha inflitto ai danni di Nizar Benamara è ripartito anche con una vittoria Walter Konyan in un match abbastanza ostico abbastanza duro da affrontare insomma contro Greg Shestakov con vittoria per split decision hanno triunfato invece prima del tempo Mohamed Valid contro Fabio De Luca vittoria appunto per Valid per sottomissione che ha fatto un pochino polemica un po' discutere perché appunto la presa è stata tenuta un pochino oltre il consentito rispetto alle indicazioni dell'abito Lorenzo Spoto poi insomma c'è stato un chiarimento insomma Valid ha ammesso di essersi fatto un po' preso fa tipo prendere dalla foga però non l'ha fatto diciamo con cattiva intenzione alla Palarez per così dire insomma l'ha fatto insomma in buona fede poi alla fine si è scusato per il gesto che gli è scappato insomma all'interno dell'ottagono e ripartito anche lui con una vittoria netta stop del medico dopo insomma 4 minuti e 36 secondi nell'ultimo round Danilo Belluardo nel match contro l'avversario Shot Notice Danilo Miceli doveva affrontare Belluardo originariamente Dargan Pesic poi per tutta una serie di problemi organizzativi insomma derivati alla quarantena che aveva dovuto fare Pesic all'arrivo in Italia si è dovuti si è dovuti inventare un altro avversario e è uscito fuori insomma Danilo Miceli un rimatch tra l'altro insomma 3-2 vinto nuovamente insomma anche il secondo match da Caterpillar insomma hanno vinto anche insomma uno dei nomi che è sicuramente più interessanti TIE Fighter Emergente Dylan Hazan esatto Dylan Hazan che ha fatto a rendere la sua superiorità nel wrestling piuttosto rara insomma nella lotta libera nel mondo delle mele italiane vincendo per 50 dopo 2-52 secondi nel primo round ai danni di Carlo D'Ambrosio insomma vittoria molto molto interessante da parte del Fighter Emergente di Aurora MMA ciò che ha fatto però un pochino più discutere in uscita dall'evento sono state insomma le rivelazioni di un articolo che è uscito praticamente il giorno dopo comunque nei giorni imminenti al soffizio dopo l'evento un articolo di Repubblica nell'edizione di Roma che con annetto di toni e riferimenti anche piuttosto stucchevoli evitabili insomma relativi a incontri clandestini riferimento alla vicenda di Cronaca che sapete benissimo di Willy Duarte Monteiro dei fratelli bianchi insomma accusati di omicidio annetto anche insomma anche di alcune imprecisioni all'interno dell'articolo viene citata in particolare la possibilità che si possono organizzare incontri di Kik Jitsu quando in realtà nell'elenco delle discipline ammesse da Koni in teoria il Kik Jitsu non è neanche previsto però annetto di tutto viene posto un dubbio un'accusa bene o male che sembra avere una certa concretezza del fatto che l'evento Golden Cage non dovesse essere formalmente organizzato perché non rientra in questa fase tra gli eventi di rilevanza nazionale che possono prendere svolgimento in questa fase storica insomma nel mondo dello sport italiano che è anche naturale perché in generale le mix martial arts non sono sport riconosciuto dal Koni quindi se ha difficoltà e qui si potrebbe aprire la solita parentesi chilometrica sul cercare di capire perché pone una domanda oltre al problema della polemica storica anche una domanda su come si è riuscito Bellator qualche mese fa organizzare eventi e su come anche altri eventi ce n'è stato uno di recente insomma che ha fatto scalpore da un punto di vista comico per certi aspetti in Abruzzo di un fighter che si è messo a mordere il suo avversario in una fase di lotta a terra però a netto di quella cosa particolare e simpatica ridicola se vogliamo si poteva porre anche la domanda sul fatto che quell'evento potesse essere organizzato meno essendo stato un incontro di MMA e questo pone domande anche sulla prospettiva future delle mixed martial arts in questo paese perché se non si potevano organizzare questi incontri non si potranno organizzare neanche i prossimi perché è difficile definirne volendo Bellator e Golden Cage potevano essere eventi di una certa rilevanza nazionale ma il problema sta alla fonte cioè che le MMA non possono essere praticate e quindi sinché non ci sarà una risoluzione della pandemia da un lato ma anche dell'equivoco legislativo nella quale rientrano le MMA c'è il rischio che tanti fighter che non possono combattere all'estero rischiano di rimanere ancora fermi e questo è un problema per le MMA italiane decisamente sì sia dal punto di vista che hai detto tu ma anche soprattutto dal punto di vista organizzativo perché nel momento in cui viene viene comunque decretata una situazione simile bisogna capire i precedenti come hai ricordato in maniera perfetta come sono avvenuti perché non se n'è parlato perché non se n'è scritto da chi si ritiene in ogni caso di competenze in questo caso la Repubblica Roma che secondo me torno a ripeterti questo è stato secondo me è stato un voler screditare personalmente gli organizzatori perché ce ne sarebbe da parlare su sta roba qua ovviamente possiamo fare tutte le illazioni possibili però poi non sappiamo qual è stata la notizia di base comunque la volontà di voler portare alla luce un articolo del genere e se le domande poi non debbano valere appunto per tutte le altre promotion che cercano di organizzare in Italia la verità è che non ci sono delle linee guida ben precise e che fondamentalmente si brancola nel buio anche per queste cose non ci sono delle direttive non ci sono delle linee guida del coni ma già appunto a monte di quel coni non si è mai mosso in maniera minima per promuovere le arti marziali miste in un periodo del genere diventa anche da un certo punto di vista primario pensarci secondo me perché la salute fisica comunque sta alla base di tutto così come la salute psicologica e sebbene giustamente bisognerebbe proteggersi bisogna proteggersi dal virus e quant'altro il problema della sedentarietà poi va a creare appunto altri disagi fisici più o meno psicofisici e quindi anche in questo caso secondo me l'attenzione dovrebbe essere molto maggiore rispetto appunto all'apertura sia di palestre quanto di centri sportivi io ovviamente non sono in grado di dare delle direttive di dire cosa sarebbe giusto e cosa sarebbe sbagliato però il richiamo all'attenzione secondo me di queste cose d'obbligo sì io diciamo tendenzialmente cerco in generale vicende del genere e in particolare in questa specifica insomma vedere anche un po' il lato autocritico di quello che può essere il movimento nel senso che forse bisognerebbe anche chiedersi come mai nella stampa nel blogging di settore e ci mettiamo nel mezzo anche noi anche se probabilmente ci occupiamo magari più di UFC che non necessariamente di MMA italiane non si siano poste prima da parte nostra queste domande a Bellator all'epoca e probabilmente anche The Golden Cage dando un po' troppo forse un po' per scontato prima che lo facesse pestando magari anche qualche cacca diciamo per così dire Repubblica e poi anche in termini per quanto concerne la questione del riconoscimento del coni se la montagna non bisogna sempre aspettare che la montagna venga da te ma che tu vada dalla montagna nel senso fuori di Metavora che magari per quanto ci possano essere stati dei tentativi in passato per quanto possa essere molto molto difficile anche in questa e in particolare in questa fase storica forse è un po' il movimento insomma entità anche difficile di difficile definizione un po' abbastanza depulosa che forse deve muoversi un pochino di più politicamente per farsi riconoscere perché non è che il coni debba per forza fare cose dall'animo del proprio cuore insomma sicuramente non si può aspettare sempre che siano gli altri che si muovano probabilmente i vari organizzatori vari diciamo addetti lavori con certa responsabilità in questo mondo forse a maggior ragione viste insomma le ristrettezze nell'organizzazione degli eventi sportivi di questo periodo forse dovrebbero riavviare o avviare di nuovo una nuova campagna politica se mai è stata avviata insomma per il conoscimento da parte del coni insomma diciamo gli sforzi forse devono essere un po' reciproci non si può forse aspettare sempre che sia sempre quelli al di fuori di questo mondo che possono essere sempre insomma responsabili di quello che succede nel mondo dell'MMA forse anche il mondo stesso dell'MMA guardandosi anche in maniera critica insomma al proprio interno che debba forse fare questo processo di maturazione che possa portare anche a un riconoscimento maggiore se in termini di immagine evitando sempre insomma certi accostamenti anche molto gratuiti a vicende di cronaca ma anche un riconoscimento sportivo che in questo momento il coni non concede alle mixed martial arts sì sì sono assolutamente d'accordo con te nel senso che è vero che per un periodo si è lamentato comunque la chiusura da parte del coni proprio di discutere del dilemma del problema io credo che in questo momento anche comunque il più alto organo di competenza non si possa più tirare indietro davanti a un dilemma che comunque esiste è presente e non sono due giorni che esiste appunto questo problema quindi è vero che i promoters dovrebbero muoversi però è anche vero secondo me che la colpa non è unicamente del coni parliamoci chiaro perché appunto ci si dovrebbe muovere come hai detto tu politicamente verso un obiettivo comune che è quello del riconoscimento delle arti marziali miste però se il massimo organo di competenza che è il coni in questo caso non facilita il dialogo è difficile proprio venire a compromessi avere delle discussioni in merito no? sì insomma da qualche parte se questo discorso se quanto avvenuto insomma possa stimolare qualche cosa l'interlocuzione chiaramente deve essere reciproca la sensazione di solito è che bene o male tenendo conto anche appunto delle difficoltà da parte di organizzamenti di MMA perché nella maggior parte insomma o sono investitori che magari hanno altre attività anzi sicuramente hanno altre attività a cui magari devono prestare la maggior parte dei loro investimenti di tempo e di soldi oppure sono proprietari di palestra e in questo periodo delle palestre diciamo sono coinvolte insomma dalla parte sbagliata della storia in questo momento insomma essendo da molto tempo inattive e quindi senza possibilità di lavorare attivamente di poter guadagnare o non succederà fondamentalmente o non succederà nulla bene o male si continuerà insomma in questa stasi oppure magari questa pandemia questa situazione quanto avvenuto lo strascico bene o male di quello che è successo dopo Golden Cage può magari stimolare questo riattivare questo tipo di o attivare per una volta questo tipo di processo eventualmente portare a un risultato che sembra molto lontano onestamente dal potersi realizzare però bene o male insomma non si devono porre dimiti alla provvidenza ecco tutto sommato si può sempre maturare un certo tipo di fiducia di speranza per così dire che prima o poi le MMA possono ottenere il riconoscimento che insomma dal nostro punto di vista sicuramente meriterebbero anche nel nostro paese direi a questo punto che possiamo chiudere e insomma passare appunto ai saluti da questa parte del microfono vi saluta Stefano ciao a tutti e da questa vi saluto Giovanni ciao ragazzi e al prossimo episodio con MMA Talks Podcast